Quando ho le motivazioni giuste faccio bene per me, dopo è chiaro che anche la squadra ne risente perché è come un meccanismo che se uno non fa quello che deve fare ne può risentire tutta la squadra, invece se Cenciarelli, Tonti e tutti quanti fanno il loro dovere la squadra va meglio, qualcosa è cambiato, nella testa mia è cambiato. Sono carico a mille, vedo l'ora di giocare domenica io. Non so cosa che mi abbia personalmente fatto scattare la molla, forse anche l'arrivo di Cruciani è forte, secondo me è stato un segnale importante. Chi viene a Teramo sa che per poter vincere deve sudare, ma deve sudare tanto, deve sudare il doppio di noi, perché noi in casa nonostante il giro non l'abbiamo fatto come qualcuno ci aspettava, o come personalmente mi aspettavo io, ho cercato di fare. In casa abbiamo sempre fatto bene, il pubblico è sempre straordinario e quindi penso che domenica ci possa essere tanta gente, me lo auguro, e ci possa dare una mano per vincere la partita. Grazie. Grazie.